Ciao a tutti, sono Lucia Rosolen e posso proprio affermare che i corsi di Alvaro Mito sono speciali. Li ho quasi tutti, ma in particolare questo da pensiero ad azione è stato per me strepitoso. Per quattro mesi, per 21 giorni e non solo, avere Alvaro Mito che ti segue, che ti assegna un compito preciso ma breve e conciso su cui lavorare, mi ha portato ad approfondire temi fondamentali. I più importanti per me sono stati quelli sulla procrastinazione e sulle emozioni negative, ma anche sulla costanza. Sono stati fondamentali per me. Infatti procrastinavo, ero vittima delle emozioni negative, mi dimenticavo anche di prendere gli integratori o mi dimenticavo di routine che dovrebbero facilitarmi la vita. Accompagnata da Alva ho fatto piccoli passi quotidiani che hanno portato ad un grande risultato. Ora vado diritta all'obiettivo, non procrastino, non mi lamento e non rimugino, ma agisco, faccio, intervengo. Ho inserito nella mia vita routine che mi aiutano e me la facilitano. E tutto questo mi dà una grande soddisfazione e se ne accorge anche chi mi sta vicino. Ho scelto Alba perché nonostante la giovane età sa unire saggezza interiore e carica vitale. La conosco da un po' e non mi ha mai delusa. Con lei ho fatto ordine, ma non solo. Sono cresciuta. Io uso una frase per ringraziare Alba, sempre grazie Alba, perché con lei grazie ai suoi corsi mi sono trasformata in una persona più decisa, più determinata, più sicura, più forte. Finalmente sono contenta e soddisfatta di me, ma so che posso sempre migliorare e per questo dico forza Alba, stupiscimi. Ciao!